ragazzi, benvenuti a King's Landing Allora, questo video sarà tutto incentrato su Dubrovnik e le varie location usate per Game of Thrones Per chi non conoscesse Game of Thrones, è una serie tv americana tratta dalla saga di romanzi Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco di George Martin ed è una delle mie serie tv preferite La città di Dubrovnik è considerata una delle più belle tra quelle che si affacciano sul mare Adriatico È sempre stata tra le più turistiche della Croazia, tappa di tutte le crociere che passano per la Dalmazia St nada Il del Release Quasi il OP ...princessa on her chair. So is she. I grew up in the shadow of her father's castle. Well, the day she was born, they rang the bells from sunrise till sunset. If you have to come to Dubrovnik, don't come from August, because it's full, full, full. It's full of tourists. Well, John, top off! Well, John, top off! Let's go! Let's go! Let's go! A sinner comes before you. Cersei of House Lannister. Mother to his grace King Tommen. Widow of his grace King Robert. She has committed the acts of falsehood and fornication. She has confessed. Well, even if there's too much people, this is the most famous location of Game of Thrones. Shame! Let's go! Negli ultimi anni è diventata una meta gettonatissima, proprio dai fan della serie, provenienti da tutto il mondo. L'UNESCO ha avvertito che il numero di visitatori sta mettendo a rischio il patrimonio storico della città, consigliando di ridurli a 8000 al giorno. Ma il sindaco della città ha annunciato che vuole abbassare la soglia a 4000. Allora, diciamo che all'appello mancherebbero un paio di location che però si possono vedere solo con la camminata sulle mura. Solo che noi siamo poveri e quindi non la facciamo. Allora, raga, il video su Dubrovnik termina qua. Non ci ha perso 30 kg oggi. Esatto. Grazie Montanino, mi offrivo la cena. Sei dimagrito, mi offrivo la cena. Comunque, allora Dubrovnik merita. Solo che è una mazzata. Veramente stancante. Potete fare anche il tour, attraverso i vari tour operator per le location di Game of Thrones e tutto. E' una cosa, il parcheggio costa una fucilata. Costa tipo? Sette euro all'ora. Sette euro all'ora. 50 cune all'ora. Raga, ci vediamo al prossimo video. E' stato bello. Il video su Dubrovnik è terminato. Ci vediamo settimana prossima con il penultimo episodio. Ciao. 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 Ciao.